Musica Cari spettatori buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del TG Mattina, oggi giovedì 29 febbraio 2024, San Giusto. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, in uscita oggi Novara VCO della Stampa con una Igor vittoriosa, dopo 5 anni torna a gioire in Europa, vinta la Challenge Cup, la squadra di Bernardi ha battuto 3 a 1 nella finale di ritorno il Nant e un cammino in Coppa di soli successi per le Azzurre, lo vedremo tra poco nella pagina sportiva. Prima donna al consorzio del Gorgonzola, Chiara Gelmini è vicepresidente, auguri di buon lavoro. Novara dall'alto si guarderà dal campionile del Duomo, una vista finora inedita, nelle prossime due domeniche il FAI ha organizzato le visite guidate, realizzate dall'architetto Antonelli, era parte di un progetto visionario. Racconta Matteo Caporusso, presidente del FAI Novara e Valsese, a risale al 1300, è ridotto rispetto alla costruzione originale per un fulmine che lo colpì nel 1625. Elena Lissoni racconta la Parigi di Denitis alla mostra dei record alle 18 quest'oggi al castello, intanto i numeri davvero esorbitanti raggiunti i 43 mila visitatori. Al castello per esplorare i sotterranei con il CAI, dunque si va anche sottoterra nella Novara della Cultura, alla scoperta di particolarità davvero interessanti. La Novara sotterranea tornerà nei prossimi mesi e riparte la scalata alla cupola di San Gaudenzio, aiuta il turismo, il monumento simbolo della città di 126 metri e la più alta costruzione in mattoni al mondo. Per quanto riguarda Passio 2024, sabato tra l'intelligenza artificiale, la musica barocca, la chiesa di San Nazaro della Costa, via al bando dedicato al medico Pagani, sono i pronti 60 mila euro per i beni culturali con la Fondazione Comunità Novaresi, finanziati ben 22 progetti. Abbiamo sollecitato le ricette, ma ci siamo trovati senza medico, a Gagliate, la dottoressa che ha ricusato i pazienti, replica, mi hanno portato a questa decisione con i loro comportamenti. E Angelo Penna, direttore generale dell'Asle di Novara, quanto avvenuto è consentito, se viene meno, il rapporto di fiducia reciproca. A Gagliate i giostrai insistono, dateci la piazza in centro, il comune non vuole le attrazioni dove morì Ludovica Visciglia. E a Miesino slittano bandi e lavori al castello, critiche alla regione per il riuso dell'immobile dell'Ottocento, ignorato anche il comune. Il consigliere P.D. Rossi dice chiuso da troppo tempo, intervenga Cirio. La proloco di Cavaglio festeggia 30 anni con il concerto dell'organo Serassi, domenica nella chiesa di San Mamante, lo strumento è del 1842. Nel Verbano Cusi-Ossola, l'attacco di Montani a Pizzi, non lo vogliamo con Cirio, elezioni regionali, il leghista, sgradita la sua presenza in lista e la replica, non mi candido. Nei cantieri del VCO scoperti subappalti non autorizzati, dieci denunce dai carabinieri. Ritardi nel progetto Idrolife, rischio 800 mila euro, secondo il consigliere provinciale Costa, in adempienze costringerebbero a dover restituire i soldi. Per gli uffici del Tecnoparco la somma è di 82 mila euro e abbiamo presentato le nostre ragioni. A Macugnaga il lupo è tornato tra le case, ha sbranato un cane a Macugnaga nella frazione Staffa, è il successo lunedì sera. La Vallestrone è un paradiso, ma bisogna farla conoscere dal Lions Omenia parte l'appello a unire le forze per promuovere un turismo intelligente. Il presidente Nobili dice che serve formare le guide e realizzare più percorsi naturalistici e culturali. Tra scuola e scienza, a Domodossola si guarda il futuro, stasera il primo di sette incontri con Domenico Di Francescantonio. Expo Italo-Svizzero del 2025, ci sono i dubbi di Domodossola, l'evento è nato nel 1925 e ogni quarto di secolo mette in vetrina i tesori di Ossola, Vallese e Ticino. Il comune ha nominato un comitato per valutare se ci sono le condizioni per riproporre la fiera. Banchine pericolose, ascensore fuori uso, protestano i sindacati per la stazione ferroviaria di Domodossola. Cambiamento e riscatto, la storia di Daniel Zaccaro, oggi un doppio incontro a Domodossola. Grazie ai teatri di provincia, la cultura più forte della crisi, l'attrice comica Deborah Villa, domani sera trecate col monologo Tilt, esaurimento globale. Ho tanto rispetto per queste sale che garantiscono gli spettacoli nel difficile periodo post-Covid. Il concerto conferenza in omaggio a Rossini, a 232 anni dalla nascita, oggi al Conservatorio Cantelli. E poi Ambra porta sul palco di Oleggio una storia di emancipazione femminile, stasera in scena Oliva Denaro, diretto da Giorgio Gallione. Faccio musica viscerale e ciò che mi passa per la testa, Evita Polidoro, l'artista di Brovello, è uscita con Nero Vivo. Il primo CD da protagonista, una dedica per la mamma Sissi De Carlini, nelle tappe importanti, bisogna saper dire grazie. Intra il tributo a Rossini nel coro San Vittore, stasera cena e concerto al Chiostro con il direttore Riccardo Zoia. E ora la Igor, è festa europea, dopo cinque anni Novara torna ad alzare al cielo un trofeo conquistando la Challenge Cup sul campo del Nant. Le azzurre hanno saputo rimontare sotto di 1-0, a chi muova 25 punti è l'MVP del match. Un cammino di soli successi, partito con la Weza Cup, la lunga cavalcata verso il trionfo. Box, Zucco pronto a tornare sul ring, primo match del 2024 a Milano, il Verbanese annuncia l'incontro di sabato 11 maggio, un avversario da definire. Maltempo nel weekend, dunque la mezza a due laghi è annullata a Gravellona, evento spostato a marzo 2025. Poi sci alpino alla piana di Vigezzo in 110 per il debutto del format ski style nella gara di tecnica. E lo sci alpino a Macugnaga, domo bianca conquista il gigante conclusivo del circuito provinciale. E ancora sci alpinismo, Eidalin vince la notturna dell'Usentino di sola salita e l'anzaschino Tonietti è secondo in Coppa Italia negli under 20. E poi andiamo a vedere, si parla anche di immobiliare con un inserto corposo sulla stampa e il Corriere di Novara. Anche qui volley femminile, Igor sul tetto d'Europa, cinque anni dopo la Champions League e la seconda Coppa continentale. Ha conquistato la Challenge Cup. Poi un sopralluogo ad un mese dal trasferimento al dormitorio a Villa Segu. Sono 45 gli ospiti nella struttura. Sono state ricavate 15 stanze, nessun problema con i residenti. Andiamo alla prima pagina nazionale della stampa. Lega in crisi. Il Veneto processa Salvini. Accordo a destra sui candidati governatori. Vannacci sospeso 11 mesi. Scontro tra i leader. Leghista e Crosetto. Assalto degli anarchici agli agenti a Torino. La telefonata del Colle per mostrare la solidarietà. E poi la Premier. Ora basta. Russia pronta a usare il nucleare. Il Financial Times pubblica un documento top secret nei piani di attacco. L'ipotesi di bombe tattiche all'idrogeno. E il piano di von der Leyen per salvare Kiev produrremo più armi. Intanto la Transnistria chiede aiuto a Mosca. È una regione della Moldavia che si era autoproclamata stato indipendente. Ed ora chiede alla Russia la protezione. E ovviamente da Putin arriva un sì. Putin boss mafioso. Così venerdì i funerali di Navalny a Mosca. E la moglie Julia che accusa pesantemente lo zar. Un capolavoro fragile, fragile. Parla l'inserto salute della stampa del piede. Una meraviglia dell'evoluzione da tenere d'occhio per prevedere disturbi. Corriere della Sera. Lo sport travolta l'Atalanta e il dominio dell'Inter. Più 12 sulla Juve. Poi la politica regionale. Il centrodestra candidiamo tre uscenti. Meloni pericoloso. Togliere il sostegno alla polizia. In centropagina Salis. Scontro con Budapest. L'Ungheria dall'Italia. Ingerenze sorprendenti. Tajani commenta bisogna tutelare i diritti. E il papà della ragazza la definisce una martire. La vedova Navalny Putin è un mafioso. Minaccia russa per la Transnistria. E poi invece una bella notizia. Valentina Caffolla. Record. Nuota per 140 metri sotto il ghiaccio. Un'impresa ottenuta anche con circostanze sfavorevoli. Addirittura solo 3 gradi la temperatura dell'acqua. E la fitta nevicata nel luogo dove si è tenuta appunto l'impresa. Niente fondi. Roma non corre per i mondiali di atletica. Ritirata la candidatura. E poi paura a Vicenza per gli allagamenti di questi giorni. Ma la città è salva. Il sole 24 ore. Si parla di Israele. Avanti con i nuovi insediamenti di coloni in Cisgiordania. E un palesi tinese su 4 a Gaza vive sulla soglia della fame. La crisi però peggiorerà questo nel rapporto dell'ONU. Super bonus PNRR. Pioggia di controlli anche dall'Unione Europea. Sottotiro 60.000 cantieri. Per quanto riguarda l'economia. L'allarme dei servizi. Filiere italiane da proteggere. E poi il servizio pubblico. La concorrenza. I taxi con le licenze al palo. E dunque gli NCC scendono in piazza. Andiamo a vedere velocemente il meteo previsto per quest'oggi. Avremo tempo nuvoloso nella prima parte della giornata. Poi l'arrivo della pioggia. Pioggia che continuerà anche domani. Temperature minime invariate. 8 gradi. Mentre la temperatura massima quest'oggi sarà di 16 gradi. Domani si abbasserà a 11 gradi. È tutto per questa edizione. Vi auguro una buona giornata. Arrivederci.